La parola di Dio deve essere sempre luce per i nostri passi, lampada per il nostro cammino. La parola di Dio non vale dai detti in su, ma vale dai detti in giù, riguarda la nostra vita, la nostra storia. Tutte le situazioni che ci troviamo a vivere personalmente, come famiglia, come nazione nel mondo, tutte queste situazioni dobbiamo lasciare che siano illuminati dalla parola di Dio. Solo la parola di Dio, ascoltata, meditata con assiduità, interiorizzata e vissuta, può dare un senso profondo alla nostra vita. I santi sono coloro che hanno ascoltato la parola di Dio e hanno preso sul serio la parola di Dio, hanno vissuto la parola di Dio, perciò sono beati. Gesù disse nel Vangelo, Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Nella vita di Antonio, considerato il padre del monachessimo, nella vita di quest'uomo tutto cambia quando, soprattutto, si lascia travolgere, rivoltare, prende sul serio nella sua vita la parola di Dio. In particolare, quelle parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, questa sera, che Gesù dice a quel tale o un giovane ricco che queste parole cambiano completamente la sua vita. Ma quando anche Antonio ha vissuto qui su questa terra, anche la sua vita spirituale è stata una lotta, una lotta anche dura, anche con il demonio, che in tutti i modi volevo distoglierlo da questo cammino di santità. Siamo tutti chiamati a questo cammino di santità. Guardiamo ad Antonio, che è stato anche poi una figura che ha dato un grande rilievo a tutto il monachessimo, e quindi ringraziamo Dio che ci ha dato questo santo.